Divorato dalle fiamme a Piombino Dese e Sugar Reef, uno dei locali notturni più di tendenza nel Veneto, è molto frequentato anche dai giovani di Mestre e di Veneto. Il loro go è scoppiato verso l'una di notte, fortunatamente la discoteca era chiusa e non ci sono stati feriti. I titolari l'avevano lasciata verso le 20 e 30. Sul posto, in via Pacinotti 12, i primi ad accorrere sono stati i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto e poi sono stati supportati da squadre giunte da Treviso, Padova e Mestre, coinvolto nell'incendio anche il bar Motivi e si è temuto per il supermercato Eurospar a campo. L'allarme è stato dato da alcuni ragazzi che si trovavano nel bar, l'intervento ha richiesto una quarantina di uomini e il focolaio è stato spento soltanto nella tarda mattinata di oggi. Non sono ancora state chiarite le cause dell'incendio, ingentissimi danni, circa 2 milioni di euro, i proprietari hanno dichiarato di essere assicurati, ma per ricominciare si dovrà ricostruire e perdere mesi di lavoro. Proprio questa sera era in programma la festa di anni.